A San Giovanni Rotondo, il 23 luglio, giorno della nascita di Emma Francavilla e della intitolazione del Centro Sociale Polivalente, è stata proclamata la giornata cittadina delle disabilità. Il sindaco Cascavilla ha annunciato che l'idea sarà presentata a settembre nel corso del primo raduno interregionale delle disabilità che sarà ospitato a San Giovanni Rotondo, così come annunciato dal garante regionale delle disabilità nel corso della cerimonia di intitolazione del Centro alla giovane psicologa san Giovannese, prematuramente scomparsa. Alla cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, ma soprattutto di tantissima gente, molti sono arrivati per stringersi al dolore dei familiari e per ricordare una professionista sempre attenta alle necessità dei più deboli e pronta ad animare con il suo sorriso e la sua presenza le varie attività del Centro Sociale affidato alla gestione della cooperativa Terzo Millennio. L'idea lanciata da Giuseppe Tulipani, garante regionale delle disabilità, di organizzare a San Giovanni Rotondo il raduno interregionale è ulteriore testimonianza che la città si presta a essere vero luogo di accoglienza e di ascolto della sofferenza fisica e cura della salute, come del sostegno al disagio sociale e del contrasto all'emarginazione, ha sottolineato il sindaco di San Giovanni Rotondo, Cascavilla.